L'Università degli Studi Roma 3 ha siglato una convenzione con il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il varo di tirocini formativi destinati ai laureandi in giurisprudenza del nostro Ateneo. L'accordo è stato firmato presso la sede del Rettorato di Roma 3 dal Rettore Luca Pietromarchi, dal Prefetto Franco Gabrielli, dal Direttore Generale dell'Università, il Dottor Pasquale Basilicata, e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Professor Giovanni Serges. Alla cerimonia hanno partecipato anche il Prefetto Alessandra Guidi, Vice Capo della Polizia, e il Prorettore Marco Ruotolo, che hanno contribuito alla definizione del progetto. I tirocini favoriranno un proficuo legame tra le istituzioni e l'Accademia, dando la possibilità ai giovani giuristi e giuriste di mettere in pratica gli insegnamenti appresi negli anni di studio.